...e documentare che attesta l'esistenza di una chiesa nella località risale al dodicesimo secolo. È una bolla di Alessandro III del 20 aprile del 1176. Nelle campagne di stabi archeologici eseguiti dal 1999 al 2003 sono state portate alla luce le fasi di costruzione della chiesa plaleo-cristiana del V secolo fino alla setta attuale che può essere attribuito alla campagna di restauri iniziata... Ave o Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta fra le donne e predetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ame. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E' con te, Signore, sempre, insieme, insieme. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Preserva il cielo sotto dell'inferno, torna in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose per la tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pace, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pace, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Grazie. 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 Signore e con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore e con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore e con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore e con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore e con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore e con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore e con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.